Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Centro 4 a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati lo scorso episodio con il recupero finalmente di Kinsey E a quanto pare nella sua simulazione è riapparso Cyrus Quindi l'obiettivo di oggi è uccidere Cyrus, una volta per tutte Va bene, arrivo subito Kinsey Eccomi che arrivo al broken scelelli, impicchiato Sono una bomba io Nel vero senso della parola Eccoci qua Va bene Sono pienamente d'accordo con il tuo piano Sarà un piacere farlo fuori di nuovo Ah il lanciarazzi Aspetta ma io perchè ho il lanciarazzi merdoso Beh non ha tutti i torti Beh si effettivamente Scendi Scendi Bravo Ecco fatto Kinsey sali su per favore Aspetta ma il lanciarazzi Scusatemi Madonna mia Effettivamente da quando Siamo stati prelevati dalla Casa Bianca È successo un po' di tutto Aspetta Ecco fatto Addio al portale Che male Cosa mi ha colpito Bomba vabbè I poteri già non ce li avevamo Ecco fatto Aspetta perché tanto quell'elicottero sicuro Ecco fatto Dovevo farlo saltare prima o poi Perfetto La macchina è andata Kinzi pensaci tu Ti dispiace levarti Bravissima Dov'è la nave Brava Kinzi Così mi piace Certo che non venivamo in questo posto Da quando Da quando effettivamente Abbiamo affrontato per l'ultima volta Abbiamo affrontato per l'ultima volta Da killbane Affermazioni pesanti Cyrus Allora Facciamo Facciamo I colpi esplosivi E gli buttiamo addosso Un colpo di ghiaccio Dov'è Eccolo qua Allora Uno E due Ops Oh ma guarda Qualcuno ha appena saltato in aria Che stronzo Ma va Chi l'avrebbe mai detto Kinzi Facciamo questo elettrico Ma in realtà si attiva anche senza che io l'attivi il potere Se ci fai caso Che è successo Certo che sono preparato Madonna quanto sei sessista Dove sei? Puff Dio mio Quando ti dicono ti calcio in culo alla luna Brava ragazza Sfoca tutto il tuo potere Che sexy che è poi Con quel costume Eh sì È andata così Ah Kinzi Kinzi Le avventure di Kinzi Completata Peccato che alcune missioni secondarie Turino Veramente nulla Però sono bellissime A livello di storia parlo Amico Cyrus Temple Sì Amico Certo E guarda caso qua sopra c'è una sua Registrazione Che mi ascolterò io Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa è sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo episodio Noi ci vediamo al prossimo episodio Noi ci vediamo al prossimo episodio